Dalla moda alle mascherine, con i numeri dei contagiati dall'epidemia in crescita anche in Molise, dalla nostra terra un segnale di resistenza, di resilienza giunge dal mondo produttivo. Da moda impresa, realtà attiva nel settore del tessile abbigliamento, la decisione di riconvertire parte delle linee nella produzione di mascherine anticontagio. Lo stabilimento di Miranda in provincia di Sernia, nato dalle ceneri di ITR, da tre giorni sta realizzando tra le 3-4 mila mascherine al giorno. Dalla prossima settimana la produzione quotidiana salirà a 10 mila dispositivi. Siamo stati nell'azienda per incontrare l'amministratore Romolo Dorazio. Noi ci siamo trovati due settimani fa completamente bloccati, ordinativi bloccati, consegne bloccate e quindi siamo arrivati di fronte a una situazione davvero molto molto drammatica. È in quel momento che ci è scattata l'idea, devo essere onesto, l'idea mi è nata in collaborazione con Enzo Di Lozzo, responsabile delle relazioni esterne della Giamedica, il quale mi ha contattato chiedendomi disperatamente delle mascherine. Allora, sfruttando il suo know-how nell'ambiente medico, il nostro know-how nel tessile, abbiamo messo a punto questo prototipo una settimana fa. L'abbiamo, diciamo, migliorato, stata facendo e da tre giorni a questa parte siamo letteralmente inondati di richieste che spesso anche umanamente ci fanno un po' riflettere, perché erano richieste da medici, da tutta Italia, da cliniche, da privati cittadini disperati perché non c'è possibilità di reperire queste mascherine. Ieri addirittura è arrivata una richiesta da Hermé Parigi che ci ha fatto molto piacere, ma ci stanno arrivando dalla Spagna, dal Portogallo e siamo letteralmente inondati di richieste e questa cosa un po' ci inorgoglisce perché insomma cerchiamo anche di rendere un servizio utile, un servizio sociale, cerchiamo di evitare per quanto possibile il nostro piccolo ulteriori contagi. Aggiungo che a livello sociale chiaramente questo ci sta consentendo di ripartire con il lavoro, di non mettere le sarte in cassa integrazione, anzi è un appello che faccio a tutti i laboratori presenti in Molise, noi li stiamo mettendo tutti al sistema perché ci sarà lavoro per le prossime settimane, io mi auguro meno tempo possibile che vorrei tornare a realizzare abbigliamento, però l'emergenza è questa e quindi sicuramente ci sarà lavoro per le prossime settimane per tutti. La mascherina viene fornita con quattro filtri intercambiabili per cui insomma diciamo che con una mascherina si può andare avanti un po' di giorni. In questo momento ne stiamo realizzando 3-4 mila al giorno ma da settimana prossima a regime ne realizzeremo 10 mila al giorno. La mascherina viene venduta a 3 euro comprensiva dei filtri e come dicevo può essere utilizzata almeno 10 giorni lavata tutte le sere, meglio ancora se lavata in candeggina o materiale igienizzante.